Romagna contro Bruzzo, atto secondo ma soprattutto Romagna contro Marche, atto diciassettesimo, a pochi chilometri da qui nel pomeriggio il Matelica è tornato alla vittoria e ora la palla passa agli seguitori in un duello che continua senza esclusione di colpi. Gli uomini di Angelini dopo aver schiantato la vastesa sabato scorso vogliono provare a sfatare l'ultimo tabù di questo intensissimo giro d'andata, battere per la prima volta una delle prime della classe, cosa mai riuscita dopo tre mesi di campionato contro Matelica, San Giustese, Recanatese e Pineto. Direi che è tutto pronto per il calcio d'inizio che viene decretato ora dall'arbitro Marco Emanuele di Pisa, assistenti Matteo Besozzi di Sondrio e Ivano Agostino di Sesto, San Giovanni, primo pallone toccato da Liguori. Benassi, cross anche interessante, sul secondo palo, coppo di testa, Cioffi la sblocca, di testa, i due centrali, il cross di Benassi, il coppo di testa di Andrea Cioffi. 11 sul cronometro, 1-0 Cesena. Cerca un interessantissimo suggerimento in profondità d'esterno, trovato Moretti, lato corto e lato di rigore, il cross, attenzione Minella, il pareggio immediato del notaresco, grande azione di bontà, bravissimo Moretti, il tocco di Minella, 15 sul cronometro, 1-1. È pronto l'arbitro Emanuele, storie tese dentro l'area di rigore, solite rappresaglie prima di un calcio piazzato, fischia l'arbitro, Liguori con il sinistro, attenzione 2-1. 2-1, la posizione è regolare, allora sorpasso notaresco con Salvatori. Ante lui Tortori, cerca un cross dentro l'area di rigore, Ricciardo di testa, quasi un assist per Fortunato, l'uscita di Monti Candellori, allarga Moretti, dentro l'area di rigore, ancora Moretti, cerca il destro, Moretti! Pallone che è simile a notaresco, un passo dal 3-1, ancora Valeri, per Campagna si allarga Tortori, servito da quelle parti anche Noce, ancora Tortori, cerca il cross, Fortunato! Se lo divora Fortunato, incredibile! Colpo di testa di Jacopo Fortunato e questa è un'occasione incredibile per il numero 25 del Cesena, liberissimo! Campagna, lato corto dell'area di rigore, il cross basso, poi prolungato, Alessandro dentro l'area, cerca il sinistro, male il portiere, Ricciardo! E poi Tortori! Tortori! La pareggia, Loris Tortori! Clamoroso errore della difesa, Loris Tortori da due passi, 2-2! A 5 secondi dal gong arriva il pareggio del Cesena! Arriva il fischio finale del direttore di gara, allora, brividi ed emozioni, 2-2 tra Cesena e San Notaresco! Tutto pronto, riprende ora il secondo tempo di Cesena-San Nicolò-Notaresco! Se ne va Liguori, dentro il campo, cerca un taglio, Moretti, uno contro uno, deve girarsi con Noce, ancora Moretti, Moretti cerca il sinistro! Deviazione di Noce, ma questo Moretti, a mio avviso, è il miglior giocatore visto in questa stagione per il momento, fa praticamente quello che vuole! Sieno, va lui dentro al campo, ancora Sieno, ai 25 metri, Scodella per Candellori, la volè! E, brivido! Minella la tocca, ma qui sorpresissimo, Poggi da quella parte, la Ringe, punta Benassi, ancora la Ringe, si incarta per un attimo, poi a entrenare la Ringe, lascia spazio a Benassi, la puntata! Ragliardi, in questo secondo tempo, la speranza era, dopo aver trovato quel rocambolesco 2-2, a tre secondi dalla sirena, di fine primo tempo, potesse cambiare un pochino qualcosa, soprattutto a inizio ripresa, ma insomma non è cambiato praticamente nulla! Bontà invece è al limite, c'è anche il destro, deviazione! Brivido incredibile! Il tocco di Benassi, notaresco, al 38esimo, un passo dal sorpasso! Calcio di punizione, campagna, batte con il destro, ma batte malissimo, poi Cioffi, è libero dalla parte opposta, Alessandro, servito, la posizione regolare, dentro, Benassi! 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 3-2, sorpasso Cesena! Ma cosa ha fatto Alessandro? Grande giocata di Danilo, tocco di Benassi, 44 sul cronometro, sorpasso Cesena! Laringe, ai 30 metri, Laringe cerca il suo sinistro, cerca un cross, la palla arriva, dentro l'area di rigore, Moretti si gira, brivido Poggi! Mamma mia che chance, mamma mia che chance! 1, 2 e 3, gioco, partita incontro, Cesena 3, notaresco 2, vittoria clamorosa di platino per il Cesena! Grazie! 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 Grazie a tutti